Musica Incidente a Lorica, perde la vita il direttore degli impianti di risalita, PM Cosenza, sequestra Cabinovia. Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco, Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto in un incidente sul lavoro. L'uomo, prima dell'apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle Cabinovia, quando sarebbe stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo violentemente la testa. Inutili soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente, era stato allertato anche l'elisoccorso. La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto il sequestro della Cabinovia di Lorica, dove si è verificato l'incidente, costato la vita al responsabile degli impianti di risalita, Alessandro Marcelli. Il sequestro è stato disposto per consentire gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Cosenza e delle stazioni di Casali del Manco, il comune sul cui territorio si trova la stazione di arrivo e partenza della Cabinovia di Lorica. La Salma di Marcelli è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere l'effettuazione dell'autopsia. Catanzaro, la Polizia di Stato, arresta un medico ginecologo. La Polizia di Stato di Catanzaro ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, sempre di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, per il reato di omicidio colposo nei confronti di un medico ginecologo già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione da parte dell'Ordine dei Medici di Teramo. L'indagine dei poliziotti della Digos ha preso avvio dall'attività intercettiva svolta sull'utenza telefonica del sanitario nell'ambito di un altro procedimento instaurato a suo carico sempre dalla Procura di Catanzaro. L'ipotesi è che il ginecologo non abbia effettuato una corretta diagnosi e non abbia prestato il necessario trattamento terapeutico su un paziente con gravissime e molteplici patologie pregresse, poi deceduto per un infarto del miocardio e lo abbia, per così dire, curato con pratiche non riconosciute dalla scienza medica, procrastinando il ricovero ospedaliero ed impedendo l'attivazione di idonee terapie salvavita. Le esigenze cautelari poste alla base di questo provvedimento coercitivo sono state desunte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dalla non occasionalità della condotta del sanitario che ha sollecitato cure alternative alla medicina ordinaria prive di validità scientifica anche in relazione ad una paziente affetta da Covid, dando esecuzione a numerosi proclami antiscientifici diffusi sul proprio profilo Facebook con ampio seguito. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari per Teleionio Bruno Cirillo. Nuovo anno giudiziario, Bruni, presenza ministro Cartavia in Calabria e segnale di attenzione e speranza. Se per il secondo anno consecutivo il ministro Cartavia sceglie la Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario è un segnale importante per questa terra martoriata anche dalle infiltrazioni malavitose. Lo dice l'onorevole Amalia Bruni, leader dell'opposizione in consiglio comunale, vicepresidente della Commissione di Contrasto all'Andrangheta. La sua scelta testimonia la vicinanza a questa regione, a questa terra splendida, ma che purtroppo sappiamo tutta gravata dalle attività illecite e le tante cosche che agiscono sul territorio. Il ministro sa perfettamente di cosa abbiamo bisogno, di altri uomini certo, di altri mezzi sicuro, ma soprattutto dell'attenzione del resto d'Italia. La Calabria ha bisogno proprio di quello che negli ultimi due anni il ministro Cartavia ha fatto con la sua venuta qui, di un'attenzione particolare per dimostrare che non siamo cittadini di serie B, che lo Stato c'è e ci sostiene, vuole darci una mano, vuole ridurre le distanze con il resto del paese. E questo sforzo i calabresi onesti, che rappresentano la larghissima parte della popolazione, lo sentono. Lo avvertono distintamente, soprattutto le nuove generazioni. In mezzo a questi giovani si respira il fresco profumo della libertà. Sono le parole del ministro presi in prestito da una dichiarazione del giudice Paolo Borsellino, sempre attuali. I ragazzi devono rappresentare il primo grande baluardo contro le mafie, le illegalità e i soprussi. Noi lo diciamo da tempo, il futuro di questa terra è affidato alle nuove generazioni. Bisogna dar loro la possibilità di studiare e di trovare lavoro qui a casa loro. Non possiamo lasciar partire le nostre menti migliori, devono poter trovare qui la loro occasione per il lavoro. Saranno loro a costruire una calabria migliore che si ingradi di offrire un'opportunità a tutti i suoi figli. Non finiremo mai di ringraziarla per il suo impegno, ministro Cartabia. Per Teleionio, Salvatore Condito. Scontro tra due auto sulla statale 107 a Belvedere e Spinello, sette feriti. Sette persone sono rimaste ferite, quattro tra le quali una bambina in modo grave, nello scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf. Avvenuto sulla statale 107 Silana Crotonese, nel comune di Belvedere e Spinello. A bordo della prima vettura due passeggeri e cinque di cui due bambini sulla Golf. I quattro feriti gravi sono stati portati in ospedale in codice rosso. La statale è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e ripristinare la circolazione. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere due occupanti, uno dalla Fiat Punto e uno dalla Golf. I feriti affidati al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera con quattro ambulanze. L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Coordinamento Calabria-Italexit, denunciato presidente Occhiuto per parole contro Novax. Il movimento politico Italexit, che fa riferimento a Gianluigi Paragone, attraverso il coordinamento regionale calabrese, fa sapere di aver denunciato il presidente della regione Roberto Occhiuto, come annunciato nei giorni scorsi, affermano «comunichiamo di aver presentato in data odierna formale denuncia ai carabinieri, compagnie della mezzia terme, in merito alle parole del presidente della Calabria e Roberto Occhiuto». La suddetta si riferisce alla dichiarazione del governatore rilasciata in data 19 gennaio 2022, durante il programma «Oggi è un altro giorno» sul Rai 1, ove lo stesso avrebbe usato toni intimidatori e discriminatori verso quella categoria di liberi cittadini che oggi sui media e dalle istituzioni vengono marchiati con l'appellativo Novax. La denuncia redatta dal Dipartimento legale Italexit Calabria a proseguire, coadiuvata da un supporto digitale contenente video e i test delle dichiarazioni di occhiuto e soprattutto da un centinaio di firme di cittadini calabresi, sorprendentemente molte dei quali vaccinati, raccolti in poche ore dopo la pubblicazione sui social di un avviso per l'adesione presso la nostra sede regionale City e la mezzia terme, dimostrando un gran fermento per questa nostra iniziativa. Ora toccherà agli organi competenti valutare se parole d'operato al presidente della Calabria sono stati conformi o meno alle leggi vigenti. Di contro noi non possiamo far altro che sottolineare il nostro dissenso politico ed etico verso questo tipo di condotte, le quali di certo non giovano né alla Calabria né all'economia né tantomeno alla socialità. Saremo sempre per il rispetto di diritti costituzionali e della democrazia e oggi più che mai possiamo assicurare che chi si porrà in contrasto con questi principi fondamentali che non ci teneremo indietro davanti a nulla è nessuno, consapevole che i cittadini calabresi ripudino con fermezzi il clima d'odio che si è instaurato anche nella nostra regione. Continueremo la nostra battaglia per la difesa della libertà individuale contro ogni forma di discriminazione. Per Teleionio, Salvatore Condito. Chiara Valle, domenica dei vaccini per gli studenti e personale scolastico. C'era grande attesa nella cittadina delle Preserve per l'iniziativa denominata Open Vax School Days, rivolto agli studenti e dal personale scolastico del territorio. L'iniziativa voluta fortemente dalla Presidente della Regione Calabria in collaborazione con i subcommissari della Sanità Calabrese e la protezione civile con il sostegno dell'ufficio scolastico della Calabria e delle aziende sanitarie. C'è stata una buona partecipazione anche perché abbiamo accolto l'invito che è pervenuto dalla Regione Calabria, questa iniziativa del Presidente Occhiuto attraverso poi l'intermediazione dell'assessore e vicepresidente della dottoressa Princi e il coinvolgimento pieno dell'ufficio scolastico regionale. questa giornata di vaccinazione nelle scuole proprio nell'ottica di una sempre maggiore solo sensibilizzazione ma attenzione verso quella che è questa fase difficilissima che ormai da tempo stiamo vivendo. La scelta delle scuole è ricaduta perché opportunamente sono state ritenute come il presidio più prossimo, più vicino effettivamente non soltanto territorialmente agli studenti ma anche per quel rapporto continuo che c'è con le famiglie. La giornata odierna è stata possibile grazie all'impegno dell'azienda sanitaria, del responsabile degli abbe vaccinali che ringrazio, il dottore Lucia, personale medico o sanitario. è stato anche interessante notare come i genitori infermieri, i medici hanno risposto prontamente a questo appello, a questo invito organizzando qui a Chiaravalle ben due centri vaccinali, uno all'istituto comprensivo Chiaravalle 2 e uno presso la nuova sede del liceo che oggi in maniera così significativa apre le porte ai suoi studenti con questa giornata di vaccinazione. L'appello è quello che il nostro Presidente ha più volte rimarcato, il nostro Presidente Mattarella, sprecare l'opportunità di vaccinarsi è un'offesa per chi questa opportunità non l'ha avuta. A questa azione si accompagna l'azione quotidiana della scuola nella prevenzione e nella sensibilizzazione. è aperta al personale scolastico, aperta agli studenti, ha avuto anche una grande eco in tutto il territorio che ha notato come questa azione sia stata di grande sprone anche per intensificare la campagna vaccinale nel territorio delle preserre. Scuola e amministrazione insieme per cercare di sconfiggere o magari fermare questa pandemia? Sì, oggi si continua con le iniziative che riguardano la prevenzione della salute sul Covid-19. Ovviamente scuola e amministrazione sempre in sinergia perché l'obiettivo è comune e bisogna unire le forze per arrivare ad un risultato. Oggi il simbolo ulteriore da amministratore è che per la prima volta il nuovo liceo scientifico verrà utilizzato per uno scopo di prevenzione anti-Covid. Quindi noi abbiamo visto per la prima volta questa scuola che per alcuni di noi ha segnato veramente l'esistenza e l'abbiamo vista in una veste nuova, in una veste nuova sia a livello morale e sia a livello estetico. Per questo vanno ringraziati i dirigenti, va ringraziato il dirigente Candelieri, va ringraziata la dirigente Aloi che ha contribuito e va ringraziata la dirigente Giannotti che oggi è impegnata nel suo secondo punto vaccinale presso la scuola dell'infanzia. Queste sono le iniziative che noi ci siamo posti fin dal primo minuto. Grazie a Dio abbiamo trovato anche dei dirigenti che sono perfettamente in linea con quello che è il metodo dell'amministrazione di Ripensiamo Chiaravalle e che lottano sulla prevenzione così come noi da due anni stiamo lottando. I risultati ci sono, l'affluenza è ottima, più che ottima, è andata al di là delle mie aspettative personali. I genitori hanno capito qual è l'importanza di questo gesto che non è un gesto fine a se stesso ma è un gesto che riesce ad essere di garanzia e tutela anche per gli altri e quando una comunità pensa agli altri una comunità automaticamente cresce. Ma vediamo come si è proceduto presso l'istituto di Contrada Foresta nell'intervista alla vicepreside Maria Chiaratino e alla dirigente scolastica professoressa Elisa Giannotti. Certo, buongiorno. Sicuramente anche questa volta la scuola si è dimostrata sensibile alla problematica che ci circonda quindi ha cercato in tutti i modi di aiutare le famiglie a vaccinare i propri figli. Naturalmente abbiamo creato questo punto vaccinale dopo aver avuto l'input dalle autorità regionali e la dirigente, la professoressa Giannotti, ha subito coinvolto noi docenti, il personale amministrativo, il personale scolastico, ha ricercato le figure professionali necessarie, i medici, paramedici, tra i genitori e tra gli spazi nostri della scuola, il nostro territorio. Abbiamo ritrovato tutto il personale necessario e con il supporto del Dipartimento di Soverato e il dottore Lucia in particolare abbiamo organizzato questo punto vaccinale. Perché lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché i nostri bambini dovevano essere vaccinati in un locale che a loro familiare, la loro scuola e quindi ci siamo adoperati per creare un ambiente molto accogliente, i bambini sono stati sereni e quindi abbiamo lavorato dietro le quinte per un bel periodo però alla fine siamo contenti di quello che abbiamo fatto e i bambini hanno fatto il vaccino in un ambiente a loro familiare e quindi noi siamo sempre dalla parte dell'utenza e ci organizziamo per fare in modo che l'utenza ne abbia proficuo. Allora diciamo che siamo molto contenti, i genitori hanno risposto benissimo, abbiamo avuto tante prenotazioni e alcune persone, alcune famiglie sono venute anche dai paesi vicini. Naturalmente siccome abbiamo un po' di classi in quarantena, alcuni genitori che avevano prenotato i propri figli non li hanno potuti portare, però ci sarà un proseguo di questa manifestazione, di questo evento. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno aiutato l'Istituto Comprensivo numero 2 affinché si potesse organizzare questo evento. Perciò io devo ringraziare innanzitutto i bambini, i genitori che sono venuti e si sono prodigati. Poi devo ringraziare il dottore Lucia e la sua collaboratrice che ha organizzato il tutto. Il dottore Celia, medico pediatra di San Vito, gli infermieri, Antonella Drossi, Caterina Carroccia, Tommasina Costanzo, Ada Mosca, Giovanni Sanso. Un grazie particolare all'infermiere Domenico Gullì che ci ha aiutati anche nell'organizzazione. Grazie alle mie docenti, Elisa Sanso, Daniela Stagliano, Matilde Badolato, Francesca Pelaggi, Maria Macri, Fernando Gallo, il nostro clown. Gli assistenti amministrativi Marcello e Pasqualina Lombardo. Ringrazio i signori volontari Giovanna Tino, Gregorio Tino e l'assessore Isabella De Masi. I nostri meravigliosi collaboratori Franco e Mimmo. E ringrazio infine gli sponsor Enzo Manno, Centro al Frutto Salvatore Chieferi e la Misericordia di Soverato. Speriamo di vivere tempi migliori. Un saluto a tutti voi dall'Istituto Comprensivo numero 2 di Chiaravalle. Arrivederci al prossimo evento. Calcio, assalto a Pullman del Palermo a Catanzaro. Assalto a colpi di caschi e bastoni ai danni del Pullman del Palermo con la squadra a bordo a Catanzaro. Il mezzo è stato oggetto di un attacco vandalico, a pochi chilometri dall'hotel che ospita la squadra Rosa Nero, in trasferta in vista della partita, sul campo della squadra calabrese. Mentre il Pullman con la squadra e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta, i due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni, i vetri e l'affiancata del mezzo. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il Pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora, mandando in frattumi una vetrata. A parte il mezzo sul quale sono evidenti i segni dell'aggressione, il vetro distrutto e la concitazione del momento, nessuno dei calciatori o dello staff Rosa Nero è rimasto ferito. Il Palermo ha già contattato le autorità competenti per sporgere denuncia. Traffico transnazionale di eroine e cocaina, droga da Olanda e Turchia verso Puglia e Calabria, 23 arresti. Con l'accuso di traffico transnazionale di eroine e cocaina, i finanzieri di Brindisi, coordinati dalla DDA di Lecce, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 persone, di cui 19 in carcere e 4 domiciliari. Gli arresti sono stati effettuati nelle province di Brindisi e Taranto, in Calabria e in Albania. L'inchiesta è riguardata una presunta organizzazione criminale transnazionale dotata di disponibilità finanziaria e logistiche impegnata nel trasporto e nella commercializzazione sul territorio italiano di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. In particolare le indagini avviate nel 2018 dal nucleo di pulizia economico-finanziaria hanno evidenziato la presenza Brindisi di un gruppo che fungeva da terminale italiano di un'organizzazione balcanica in grado di importare nella provincia di Brindisi significative partite di eroine e cocaina. Rispettivamente in arrivo dalla Turchia e dall'Olanda, poi smistate sulle diverse piazze di spaccio della regione in provincia di Reggio Calabria. A quanto emerso il traffico era stato oggetto di interesse da parte della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita che aveva avanzato pretesi sui guadagni. Oltre al traffico di droga sono ipotizzate a vario titolo reati di estorsione aggravata da metodo mafioso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comune e da guerra. Danneggiamento e autoriciclaggio in tutto sono 45 le persone indagate. Per Teleionio Salvatore Condito. Rapina in banca nel 2017 a Cosenza arrestato il presunto autore. Personale della squadra mobile di Cosenza arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP un consentino ritenuto responsabile in concorso con altre persone allo Stato non identificate di rapina aggravata in una banca di sequestro di persona di alcuni dipendenti e clienti e di porto abusivo di arma da taglio. La rapina era stata compiuta l'11 luglio 2017 ai danni dell'istituto di credito Ubi Banca di Cosenza. Nell'occasione quattro soggetti si erano impossessati di 200 mila euro contenuti nella cassaforte. I banditi travisati erano riusciti ad avere accesso alla cassaforte grazie alle minacce perpetrate con un taglierino rivolte ad un dipendente e con il sequestro in una stanza di alcuni dipendenti e clienti al fine di agevolarsi la fuga. Le indagini coordinate dalla procura di Cosenza avevano portato ad accertare che i rapinatori si erano allontanati a bordo di un'auto rubata che immediatamente ritrovata permetteva anche il rinvenimento di una calzamaglia usata per il travisamento da parte di uno dei rapinatori. L'attività di repertazione effettuata sul posto dagli investigatori e di successivi esami genetici realizzati dal gabinetto regionale Polizia Scientifica di Palermo sui reperti biologici rinvenuti sulla calzamaglia hanno consentito di risalire al profilo genetico dell'indagato. I risultati hanno consentito alla procura di chiedere un provvedimento restrittivo a carico del soggetto emesso dal GIP. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato a casa dove era sottoposto agli arresti domiciliari per un'altra causa ed è stato condotto in carcere. Segretario regionale dell'OSAP, disordine nel carcere di Reggio Calabria. Disordini sono scoppiate all'interno del carcere San Pietro di Reggio Calabria e sono stati contenuti dalla polizia penitenziaria nonostante la gravissima carenza negli organici e le insostenibili condizioni di servizio. Lo afferma il segretario regionale dell'OSAP Maurizio Policaro. Un detenuto di origine napoletane riferisce Policaro in una nota appartenente presumibilmente alla criminalità organizzata per ristretto una sezione denominata AS3, già nota alle croniche carcerarie per aver tentato di uccidere un altro detenuto all'interno di un altro carcere esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco, ha dato origine all'ennesima protesta mettendo a repentaglio l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Già nei giorni scorsi il soggetto aveva attuato comportamenti simili e la situazione si è aggravata in quanto nelle proteste in scenata ha coinvolto anche la restante popolazione detenuta. L'evento critico poteva concretizzarsi in maniera estremamente pericolosa per l'esiguità di personale e solo il senso di responsabilità e appartenenza con l'ausilio di un consistente numero di unità di polizia penitenziaria si è riuscita a riportare il reparto in sicurezza. Cos'altro dove accadere, afferma Pasquale Pontesano, segretario generale OSAP, affinché il governo faccia priorità del sistema penitenziario con annunci e atti concreti e tangibili. Ormai i continui eventi critici stanno facendo precipitare i nostri penitenziari ai livelli di quasi mezzo secolo fa. Le carcere ormai sono fuori controllo a dispetto del diuturno sacrificio delle donne e degli uomini del corpo di polizia penitenziaria i quali pagano sulla loro pelle gli anni di abbandono della politica e il pressappochismo dei governi, i ricompresi quelli attualmente in carica. Ci aspettiamo dalla politica e da tutte le articolazioni di governo immediate e non più rinviabili riforme e interventi in linea ruolo ai compiti della polizia penitenziaria. Alla ministra Cartabia, al capo DAP Petralia chiediamo soluzioni immediate che possono alleviare gli eccessivi carichi di lavoro attraverso una maggiore organizzazione e ampliamento degli organici. Per Teleionio Salvatore Condito. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Viabilità nelle serre, interventi sulla strada provinciale 43. Si comincia ad avverare dopo anni di vana aspettativa il sogno del compianto sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone, il quale che per anni ha lottato affinché la strada provinciale 43 che congiunge Brognaturo con la località acqua del sorcio sul versante ionico venisse resa transitabile. Deceduto nel gennaio dello scorso anno, il primo cittadino non ha visto la realizzazione di questo suo sogno. Oggi però qualcosa di nuovo è accaduto. La provincia di Vibbo ha appaltato i lavori per la strada provinciale 43 per un primo importo di 100 mila euro. Un sospiro di sollievo è stato quindi tirato dai Brognaturesi e in particolare dalla figlia del compianto sindaco Tassone, Rossana, la quale oggi è in carica al suo posto dopo essere succeduta al padre che con tanta passione si era dedicato alla crescita e allo sviluppo del suo paese. L'arteria consente uno sbocco più agevole e veloce dell'entroterra delle serre alla costa ionica e rappresenta quindi per le aree interne un'importante via di comunicazione che purtroppo dopo essere stata costruita è stata abbandonata a se stessa fino al punto da diventare intransitabile. Il suo rifacimento significa pertanto una ripresa importante dei collegamenti da e verso la costa. Per la stessa strada è in programma lo stanziamento di altri 300 mila euro destinati al miglioramento della percorribilità e della messa in sicurezza dei tratti più critici e pericolosi. In favore di questa strada si è particolarmente speso il consigliere provinciale Carmine Mangiardi il quale si è detto soddisfatto per i risultati raggiunti. Continuerò a vigilare e a impegnarmi, ha detto Mangiardi, in favore delle popolazioni che partono da condizioni svantaggiate ma che sono laboriose e danno una grande voglia di riscatto. Serra, Valeria Giangotti entra nella direzione regionale del Partito Democratico, lavorerò per la mia comunità. Sono i sentimenti di entusiasmo e di grande responsabilità da animare Valeria Giangotti dopo il suo ingresso nella direzione regionale del Partito Democratico. Il già vice sindaco di Serra San Bruno ritiene di dover affrontare una vera sfida consistente nel dover costruire un percorso che sappia essere fortemente rappresentativo dei territori, nell'ottica di una sintesi valore e di idee capaci di declinare una squadra da contrapporre al centrodestra. Giangotti insiste sui concetti di rigenerazione e rinnovamento, considerate come stella polare del mio agire e si dice pronta a interpretare i reali bisogni della mia comunità e portarli sui tavoli decisionali per garantire sviluppo e assistenza alle fasce deboli. Riparto sostiene dalla mia comunità che è quella di Serra San Bruno e dai miei concittadini ai quali mi sento legata da un fortissimo sentimento di appartenenza. Creeremo le basi affinché il partito, così come pensato e voluto dal nostro segretario regionale, possa suscitare interesse e entusiasmo per dare voce finalmente alla base del partito. Giangotti ringrazia per la grande vicinanza politica tutti i dirigenti del Partito Democratico che il segretario regionale che hanno riposto in me grande fiducia e considerazione. Spero, conclude insieme a tutti loro, di poter rilanciare un grande partito quale il Partito Democratico. Per Teleionio, Salvatore Condito. Pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari. In Calabria il progetto Patrimonio Storico Artistico e Culturale due i posti assegnati a Badolato. Il presidente prologo Badolato, Pietro Piroso e Unpli Calabria hanno comunicato che ufficialmente online è stato pubblicato il nuovo bando del servizio civile per la selezione di operatori volontari. Far crescere i giovani, far crescere l'Italia. Diversi progetti per il 2022-2023, operativi ed attivi in Calabria nella provincia di Catanzaro è anche a Badolato nel settore patrimonio storico, artistico e culturale con relativa area di intervento, tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. È possibile leggere la sintesi dei progetti sul sito web www.serviziocivile.unpli.net Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma online domandaonline.serviziocivile.it Scadenza a bando 26 gennaio 2022 alle ore 14. Piroso ha evidenziato che i posti assegnati alla Prologo Badolato in base agli iscritti saranno due. Possono presentare la domanda ai giovani d'età compresa tra 18 e 29 anni, essere cittadini dell'Unione Europea in possesso del titolo di studio scuola secondaria di secondo grado. Lo stipendio sarà di circa 500 euro al mese, la durata sarà di un anno per un totale di ore 1145. Le ore settimanali saranno 25, distribuite su sei giorni lavorativi. Michele Affidato realizza i premi speciali per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Pronto a ripartire, l'appuntamento più atteso del panorama musicale nazionale, il Festival della Canzone Italiana, giunto quest'anno alla sua 72esima edizione, prenderà il via il prossimo primo febbraio. Per il terzo anno consecutivo la conduzione e la direzione artistica è stata affidata ad Amadeus, che salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da cinque co-conduttrici, che si alterneranno nel corso delle cinque serate, L'emergenza sanitaria anche quest'anno ha portato alla scelta di istituire un rigido protocollo sanitario per consentire che l'intero festival si possa svolgere in totale sicurezza per artisti e addetti ai lavori. Ma quello che sicuramente non cambierà sarà l'elemento che da sempre contraddistingue questo evento, ovvero il portare la bellezza della musica in tutte le case degli italiani e non solo. Come ormai da diversi anni, anche in questa edizione sarà presente con le sue opere il maestro orafo Michele Affidato, la cui arte ha caratterizzato e segnato nel tempo i momenti salienti del Festival della Canzone Italiana. Nelle passate edizioni, con le sue opere, sono stati premiati artisti che hanno fatto la storia di questa kermesse musicale, ma anche giornalisti, autori e maestranze. Tutti coloro, insomma, che raccontano e promuovono il Festival di Sanremo nel mondo, fondendo il tutto in un rapporto che unisce la bellezza della musica e quella dell'arte orafa. Su tutti, in questa settantaduesima edizione, spicca il prestigioso premio Sala Stampa a Mia Martini. L'opera realizzata consiste in una scultura galvanizzata in oro e argento, composta da un leone che si appoggia ad una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori in argento, dove sono state incastonate pietre di topazze azzurri. La scultura vuole simboleggiare Sanremo la città dei fiori, della musica e del mare, un premio intitolato alla memoria della grande cantautrice Mia Martini, che viene assegnato dalla stampa specializzata alla canzone e all'interprete che più si è distinto per il testo e per l'originalità. Inoltre, anche quest'anno, Michele Fidato ha avuto il compito di realizzare i premi per Casa Sanremo. Tra questi, il Sunday's Award, un premio ideato da Vincenzo Russo Lillo, patron di Casa Sanremo, destinato alle case discografiche. Una giuria di esperti di musica e di cinema valuterà il miglior videoclip tra i brani presentati al festival. L'opera è costituita da un disco in argento ed una chiave di violino, che poggiano su una base di cristallo e vetro fuso. Non solo musica, la firma di affidato sarà posta anche sulla parte culturale della chermesse. Al maestro orafo è stato infatti dato l'incarico di realizzare i premi per l'edizione 2022 di Casa Sanremo Writes. Lo spazio è interamente dedicato all'incontro tra scrittorio e pubblico, dove a parlare di libri troviamo anche e soprattutto musicisti, giornalisti e personaggi di spettacolo. Due le opere realizzate, la prima per il concorso letterario nazionale per opere edite a tema libero e la seconda per il concorso Writers Serie TV. Entrambe le opere consistono in dei bassodilievi in argento. Infine, un premio speciale verrà consegnato anche ad Amadeus. Ma per Michele Affidato Sanremo non è solo musica e cultura, ma anche impegno sociale. Come per gli scorsi anni, il maestro orafo, da poco nominato ambasciatore nazionale Unicef, promuove un convegno a Casa Sanremo, volto a sensibilizzare le tematiche particolarmente attenzionate all'Unicef. Quest'anno il tema sarà la dispersione scolastica e povertà educative. Una tematica che da sempre l'Unicef tiene in grande considerazione, non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. A condurre il convegno sarà la brava presentatrice Rai, Veronica Maia. Ed ancora la realizzazione del premio Musica contro le mafie, ideato da Gennaro De Rosa, che da anni, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti un impegno non solo contro le mafie, la corruzione e i fenomeni di criminalità, ma anche per una vera e propria giustizia sociale. L'opera realizzata dall'orafo scultore Antonio Affidato consiste in una scultura in argento, raffigurante il logo di Musica contro le mafie. Arte e cultura in Calabria, la mostra minima fragmente dello scultore calabrese Antonio Troppiano al Marca di Catanzaro dal 29 gennaio al 17 aprile. Dal 29 gennaio e fino al 17 aprile 2022, gli spazi espositivi del Museo Marca di Catanzaro ospiteranno la mostra minima Fragmenta dello scultore Antonio Troppiano. L'evento è stato promosso dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall'amministrazione provinciale di Catanzaro. L'esposizione, curata da Alessandro Romanini, propone 20 opere in legno, alcune di grande formato selezionate tra le più significative della sua produzione. Le opere di Antonio Troppiano sono frutto di un personale processo creativo, alimentato equamente da una profonda cultura e da un'eccersa perizia tecnica. L'artista rifugge le facili formule, preconfezionate e le categorie precostituite, per creare dinamiche espressive e improntate alla metafora, che valorizzano ogni singola opera e stabilisce con il fruitore un patto vocato alla riflessione e al pensiero. Opere come isole sature di senso, riunite in un'arcipelogo mostra, in cui si incrociano e moltiplicano pensieri e visioni che arricchiscono lo sguardo e lo spirito. Minima Fragmenta rientra nel più ampio progetto della Fondazione, denominato Glocal Quarta Sezione, Attraversare il Territorio, progetto che nasce per promuovere gli artisti di origini calabresi che hanno mantenuto un legame con il territorio. Per l'occasione è stato realizzato un catalogo bilingue italiano-inglese, edito da Silvana Editorial per La Collana Quaderni del Marca, contenente i testi critici di Alessandro Romanini, Giorgio De Finis, Rocco Guglielmo e Alberto D'Ambroso. Antonio Tropiano nasce in Calabria nel 1976, vive e lavora tra Roma e Santa Caterina dello Ionio, compie i suoi studi tra Bologna e Firenze, dove prosegue le sue ricerche nel campo della filologia medievale e rinascimentale. Collabora con una nota case editrice, Lerma, di Brezzeneder, come saggista nel campo della storia dell'arte e della letteratura umanistica. Fin da ragazzo mostra una certa predilezione per la creazione plastica e per la naturale versatilità del legno, che proprio nella scultura sembra trovare il giusto grado di conciliazione. Sotto l'impulso di un assiduo a ricerca linguistica mette a punto una cifra stilistica personale, capace di operare una sintesi tra l'ispirazione metaforica di matrice letteraria e la resa figurativa di una fenomenologia dell'agire umano. Grazie.